E buone notizie arrivano invece da Roma per quanto riguarda il trasporto su gomma. Il Molise beneficerà infatti di fondi stanziati dal Governo nazionale pari all'80% in più. Trasporto pubblico su gomma. Mentre restano a parte le partite legate ai mancati pagamenti degli stipendi all'ATM e alla gara di appalto a Campobasso, qualcosa sembra muoversi a livello nazionale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio, ha firmato il decreto di ripartizione anticipata dell'80% del Fondo Statale per il trasporto pubblico da trasferire alle Regioni a statuto ordinario per la copertura della spesa corrente dei servizi di trasporto pubblico, locale e regionale, anche ferroviario. Grazie a questa nuova impostazione sarà erogato in favore della Regione Molise l'80% delle risorse destinate al trasporto pubblico, pari a 28 milioni di euro, e ciò avverrà nel giro di pochi giorni a differenza del passato in cui questa erogazione si produceva non prima di giugno. Significa avere garantita la copertura dei costi e, di conseguenza, i servizi da assicurare. Questo metodo, ha sottolineato l'Assessore regionale ai trasporti Pier Polo Nanni, risolverà una storica criticità relativa ai tempi dei pagamenti a favore degli eserciendi del trasporto pubblico, avvenuta sempre con l'utilizzo di somme proprie della Regione e con i conseguenti disagi che tale anticipo comportava. È evidente che tutto il settore trarrà beneficio e finalmente dovrebbero essere accantonate le polemiche e garantiti i migliori possibili servizi ai cittadini attraverso la predisposizione di una programmazione mirata garantita, proprio dai soldi già in cassa. I pendolari, almeno, è quello che si auspicano.